Non ho dimenticato il nostro ultimo incontro al Tempio Celeste. Come vanno le cicatrici? E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabri Costa e benvenuti in questa nuova recensione. In questo primo capitolo della modalità storia di Mortal Kombat 11, voglio dirvi una cosa. Siamo in questa terza battaglia, capite? Cassie Cage affronta un altro Revenant, ma questa volta è Kitana. Siamo nel regno occulto, in questa cattedrale. Ricordatevi che Cassie e Kitana si erano già affrontate al Tempio Celeste in Mortal Kombat X. Bisogna fare attenzione perché Kitana ha quei ventagli affilati. E anche questa terza battaglia del primo capitolo è finita. Vi saluto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.